Anna Pettinelli, opinionista e conduttrice radiofonica, ai nostri microfoni ci parla della sua passione per le scarpe. Scarpa perfetta deve essere unica, mi deve dare l'idea che ce l'ho solo io e che la gente mi guarda per le scarpe. Quindi la scarpa per me è importantissima, sono proprio una fissata. Ormai c'è una tale mercificazione e massificazione dei vestiti che andare a scegliere dei vestiti che abbiano una particolarità come la scarpa è praticamente impossibile. Ripeto, il tubino nero è perfetto per una serata ma se hai una scarpa pazzesca, molto più importante la scarpa del vestito, lo sarà sempre. Per me la scarpa è più importante della borsa, assolutamente. La scarpa è la propria personalità. Non mi piacciono i tacchi a rocchetto, non mi piacciono le scarpe con la punta tonda, non mi piacciono, adesso io devo stare attenta perché sennò potrei magari citare e offendere una marca che è qua. Ecco, diciamo, la scarpa comoda, intesa come quella della nonna, no, proprio no. La scarpa bassa va benissimo, però deve avere personalità anche la scarpa. La scarpa perfetta deve avere un colore aggressivo, dei particolari unici, non è mai una scarpa normale. Ha anche il rischio di essere esagerata, però la scarpa deve essere veramente diversa. La scarpa eccentrica è la mia scarpa. La scarpa è la mia scarpa.